Andare tre mesi al mare è un lusso che pochi, soprattutto ai tempi d'oggi, si possono permettere. Così per i piccoli pazienti con problemi di sinusiti, riniti, allergie e otiti frequenti è arrivata nel Policlinico di Bari la Clinica del Sale Aerosal o Aloterapia, nel reparto di Otorino Laringoiatria diretto dal professor Nicola Quaranta. Da una stanza che al momento è fondamentalmente presente in centri termali, in centri di benessere, e si trasforma in una vera e propria terapia di patologie acute, subacute e croniche, perlomeno delle vere superiori. È positivo, almeno le mamme e i bambini si divertono, quindi da quel punto di vista è un dato positivo. Certo non abbiamo ancora dati scientifici, quindi non possiamo esprimerci sull'efficacia. I primi dati potrete averli verso maggio già? I primi dati sì, fine maggio, subito prima dell'estate. In un'area di 40 metri quadrati sono stati realizzati una camera tutta di sale, dove i bambini possono giocare come in spiaggia, mentre respirano microparticelle di sale e iodio, oltre a spazi e luoghi d'attesa adatti all'infanzia, con percorsi terapeutici legati al gioco per far sì che i piccoli ospiti siano a proprio agio. Al momento sono 64 i pazienti sottoposti allo studio. Il ciclo prevede sedute di mezz'ora al giorno, da lunedì al venerdì, nella stanza del sale, per tre mesi. Responsabile della clinica del sale e della ricerca è il dottor Matteo Gelardi, dirigente di primo livello, citologo nasale ed esperto rinologo internazionale. Abbiamo iniziato questo studio appunto a febbraio. I bambini entrano in questa camera del sale, dove si vengono a creare un microclima, tipo sale, salmastro, tutto ciò che troviamo al mare, insomma sale e iodio. Sono delle microparticelle che insieme, cloro, sodio e iodio, vanno a creare il benessere delle vie respiratorie. Lo studio mira a vedere, a verificare se questo genere di terapia possa influire positivamente su queste patologie. Ed è uno studio che abbiamo iniziato noi per primi.